La questione CTP, questa mattina c'è una riunione importante, lei ha dato come diktat l'assunzione dei 24 lavoratori NAMET in CTP, visto che NAMET è la società che si occupa di manutenzione, di fornitura del gas e liquidazione. Le volevo chiedere, ma visto che ci sono ritardi su questo, il consiglio di amministrazione di CTP gode ancora della sua fiducia? Possiamo entrare nel tecnico, il sindaco fa il sindaco, dà le direttive politiche che sono quelle di salvare il servizio pubblico, provare a salvare tutti i lavoratori e dare un servizio efficiente per l'utenza. In momenti storici in cui le risorse economiche sono poche, i debiti accumulati nel corso degli anni sono tanti ed il modello imperante è quello delle privatizzazioni selvagge. Poi ci sono gli amministratori, i consigli di amministrazione, i tecnici, i dirigenti, i funzionari che devono provare a portare a compimento quello che è la direttiva politica. Quindi su qualche domanda più specifica sul piano tecnico non debbo rispondere io, quando non ho più fiducia di alcune persone perché commettono delle cose evidentemente che non possono fare poi si adottano i provvedimenti necessari. Noi siamo fiduciosi che CTP, ma lo stesso vale anche per ANM, possa non solo consolidarsi sempre di più ma rendere soprattutto servizi sempre più efficienti all'utenza. Ci sto lavorando davvero tanto come sindaco della città metropolitana e devo dire sono fiducioso che alla fine questo obiettivo sul trasporto pubblico lo raggiungeremo in modo autonomo, ahimè, perché noi dovremmo avere ben altri trasferimenti nazionali, abbiamo fatto i calcoli, dovremmo avere tante tante decine di milioni di euro in più che non abbiamo per non parlare della regione campania che come sapete con ANM è l'unico caso in Italia che mette praticamente le stesse risorse del comune è come una banca che mette gli stessi soldi di una merceria, talmente evidente però forse dobbiamo ogni giorno sottolineare perché noi stiamo provando a salvare il servizio pubblico in totale responsabilità, autonomia e spesso condizioni di isolamento in cui ci vogliono portare altre istituzioni.